Ludo Nemico, al centro Addio, cristiano Mordi 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 Sì, vabbè Va a cagare Ora tu mori Ma c'è, si è mangiato un palletto Madonna, cristiano No, no E si cambia, e si cambia, e si cambia Sa chi si cambia Cazzo Qualche generale contente Qualche generale generalizzato Raggruppati Pronti, presto, ci vuoi No, non riesco a dire Sì, non riesco a dire No, 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 no Persi, Ivan, colaggio a razzi Guarda, sei sconfutente No, 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 no Bisogna una mano, bisogna una mano Bisogna una manina UAB alleato in zona Sul volo a via Ma, sì, ma, più o più C'è un'altra Ma, DIA 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 Sono usciti Sono usciti? Missile cruise demico Cazzo di qua Cazzo di qua Cazzo di qua Essi dalla partita Forse non disponibile Siamo in vantaggio Demico Mierdite E lo so più Sì, devo abbandonare Io la fai Sì La puttana di se L'ha messo sette Dai, yeah Avevo 5 Zero, ma, tre, sotto? Quanti n'hai sotto, Nico? Sì Quanti n'hai sotto? Zero Che baffi Sai, io devo ricaricare Italiano sette Storia otto Inglese sette Spagnolo sette Matematica sei Alimenti sei Diritto sei Educazione civica sette Vabbè, quello vaffanculo Cucina otto? Cucina otto? Cucina otto Sala sette Sala avevo 5,6 Ma come sarà sei? Ma come sarà sei bestiai? Ho sette Sala sette Io sei Ma come si permette Ma come si permette? Ma come si permette? Sono rimandato solo a una Sono rimandato solo a una Economia? Sì 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 Oddio 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 Sì Sì LUCIO... LUCIO... Cioè, ora mi va a una halle pipidola te? LUCIÓ... Cos'è quello mi giorpezz, l'ellem tuttivisi 7... Sostensi...